Musica Da domani la campagna anti-covid rafforza la rete di punti vaccinali nel territorio di ATS della montagna Oltre il 70% degli over 80 hanno aderito record regionale, impegno convinto dei medici di base Nelle case di riposo conclusa la somministrazione della seconda dose a ospiti e personale Atelio inseriti i nuovi anziani, il presidente Valenti, pronti a diventare punto vaccinale per la popolazione La clientela affezionata riprende confidenza, al ristorante crescono le prenotazioni Ma solo il weekend non basta, dice Fabio Valli, abbiamo bisogno di aprire anche alla sera per noi e i dipendenti Le imprese valtellinesi del settore agroalimentare di qualità riunite nel distretto guardano con fiducia al futuro Franco Moro, noi il motore della ripresa, il cibo ambasciatore del territorio nel mondo Buonasera e ben trovati a tutti i telespettatori di Unica Sondrio Molto alta l'adesione alle vaccinazioni contro il coronavirus degli over 80 ATS della montagna ha fatto registrare il dato più elevato in Lombardia Il 70% definite altre sedie e le date di somministrazione sul nostro territorio Vediamo Sono 15.537 gli ultraottantenni residenti nel territorio della TS della montagna che hanno dato la loro preadesione per potersi sottoporre alla somministrazione del vaccino anticovid 8.836 si sono prenotati tramite il portale regionale 6.387 tramite le farmacie e 814 tramite i medici di medicina generale Dal 18 al 22 febbraio sono state vaccinate 1.257 persone di cui 747 in Valtellina e Altolario e 510 in Valcamonica Ad oggi la TS della montagna è quella con la più alta percentuale oltre il 70% di adesioni alla fase 1 terra Dal lunedì, 22 febbraio, ricorda TS in una nota Sono coinvolti nella campagna vaccinale riservata agli anziani anche i medici di medicina generale che hanno aderito più del 90% all'iniziativa e che lavorano nei centri territoriali vaccinali Oggi sono stati attivati altri due centri territoriali quello di Bormio e in Valcamonica a Capodiponte La campagna riservata agli anziani prosegue mercoledì 24 febbraio a Tirano, Palazzo Foppoli il 25 febbraio a Verbenno nella sala Teatro Quattro Torri e al Poli Funzionale di Via di Tirano Venerdì 26 tocca a Dubino con l'appuntamento alla RSA Madonna del Lavoro Coloro che hanno fornito la preadesione saranno chiamati in base a due criteri l'età nagrafica, dal più anziano fino ai nati nel 41 compresi il comune di residenza più vicino alla sede vaccinale Per la fase 1 bis, che si prevede di concludere il 26 febbraio sono 4.006 le persone individuate e che hanno diritto alla somministrazione del vaccino Complessivamente all'inizio della campagna vaccinale iniziata il 4 gennaio 2021 sono state somministrate nel territorio di competenza della TS della Montagna 23.718 dosi di cui 14.984 nel distretto Valtellina Alto Lario Ospiti tutti vaccinati, ripresa dei nuovi ingressi e primi incontri con i familiari anche se ancora a distanza nelle case di riposo della provincia c'è un lento ma progressivo ritorno alla normalità e la RSA di Teglio si mette a disposizione per vaccinare la popolazione Un graduale ritorno alla normalità nelle case di riposo della provincia di Sondrio dove le vaccinazioni di ospiti e personale sono state completate e vengono accolti nuovi anziani Nella RSA Sant'Orsola di Teglio dotata anche di mini alloggi protetti i 48 posti letto disponibili sono tutti occupati Abbiamo già vaccinato tutti gli ospiti e tutto il personale abbiamo finito la seconda dose già da linea i primi giorni di febbraio e abbiamo ripreso anche ecco questo è giusto rimarcarlo gli ingressi dei nuovi ospiti che avevano bisogno e che si facevano sentire perché l'esigenza purtroppo c'è ancora abbastanza diffusa Oggi siamo riusciti a fare anche le vaccinazioni degli ospiti dei mini alloggi protetti che praticamente non sono stati fatti allora perché non sono RSA Quanti nuovi ospiti in totale avete accolto? In questo momento siamo con tutti i letti disponibili occupati Le visite dei parenti sono riprese? Le visite dei parenti sono riprese però ancora a distanza per cui in questa terrazza con la porta a vetri i parenti possono stare da una parte e gli ospiti dall'altra non c'è ancora la possibilità di abbracciarsi Ecco proprio oggi sentivo un ospite che si lamentava di questo fatto che vorrebbe abbracciare i suoi figli dobbiamo avere ancora un po' di pazienza per la sicurezza di tutti Delle 470 persone della provincia di Sondrio decedute a causa del coronavirus dall'inizio della pandemia numerosi gli ospiti delle case di riposo a Teglio 18 gli anziani che non ce l'hanno fatta come il loro medico Oscar Giudice contagiato senza scampo dal virus mentre si prendeva cura degli ospiti Io sto facendo ogni tanto saltuariamente anche il medico in questa casa di riposo perché noi abbiamo avuto uno dei due nostri medici Oscar Giudice che purtroppo è deceduto proprio per covid è un problema per molte case di riposo la carenza di medici e non solo per noi La casa di riposo Sant'Orsola di Teglio ha manifestato la propria disponibilità a diventare centro vaccinale della popolazione E' chiaro che quando succederà che si vaccinerà tutta la popolazione noi ribadiremo la nostra disponibilità a collaborare Il bel tempo i paesaggi da Cartolina invogliano i turisti a raggiungere le nostre località di villeggiatura boom di prenotazioni nei ristoranti durante il fine settimana ma la chiusura serale è un grosso problema Nei clienti si vede e si nota la voglia di uscire dopo tanto tempo di chiusura forzata nelle proprie azioni quindi anche qua da noi a Teglio come in tutte le altre località della Valtellina della provincia di Sondrio sicuramente questi ultimi tre weekend sono stati presi d'assalto dai turisti Boom di prenotazioni negli alberghi e nei ristoranti delle località turistiche della provincia di Sondrio ma solo nel fine settimana le belle giornate aiutano gli imprenditori del settore messi in ginocchio dall'emergenza sanitaria ed ora per risollevarsi chiedono di lavorare a pieno regime sia pranzo sia cena ottenere ristori adeguati alle reali perdite ma soprattutto avere prospettive o meglio certezza a lungo termine che consentano di pianificare il lavoro con tranquillità queste riaperture devono essere di buon auspicio ma sicuramente non ci salvano per poter riprendere con un ritmo regolare sicuramente bisogna poter aprire tutto il giorno perché chiaramente non basta solo una mezza giornata bisogna che la gente possa tornare liberamente a circolare e questo chiaramente dipende tutto dai vaccini che speriamo che in tempi brevi arrivino che saranno quelli che certamente potranno farsi in qualche modo tornare alla normalità le nostre attività chiaramente hanno bisogno dei tanti auspicati ristori e aiuti perché come dicevo prima siamo usciti da un anno di sofferenza totale e le riaperture da sole sicuramente non potranno non potranno bastare per farci ritornare sui ritmi degli anni scorsi cosa può cambiare per voi con l'apertura serale pur lavorando anche bene nei fini settimana ma i fini settimana con le chiusure serali non bastano a sostenere l'economia di un'azienda anche perché le spese nelle aziende ci sono dal lunedì alla domenica sera la speranza è che questi inizi di apertura siano il preludio per poter ritornare veramente a una situazione di normalità che tanto ci manca siamo pronti a vaccinarci per tutelare noi le nostre famiglie ma anche i clienti precisa Fabio Valli alla guida dei commercianti del tiranese vicepresidente provinciale di Federalberghi pensiamo che sia necessario vaccinarsi quindi l'augurio è che queste benedette vaccinazioni arrivino veramente al più presto per poter riprendere a lavorare in tutta tranquillità è uno dei punti di forza dell'economia nazionale e della provincia di Sondrio l'agroalimentare ha retto bene anche durante la pandemia e a giugno a Bormio verrà celebrato nel nuovo forum che si preannuncia come la Cernobbio delle Alpi nel servizio ai commenti delle aziende del settore siamo il primo paese al mondo per numero di DOP e IGP il primo produttore e esportatore mondiale di pasta primi nella produzione di vino l'agroalimentare genera 540 miliardi di fatturato da lavoro a 3 milioni 600 mila persone numeri quelli illustrati a sondrio dall'amministratore delegato di The European House Ambrosetti Valerio De Molli che confermano il peso specifico di un settore chiave per la ripartenza dell'Italia Bormio dal 4 al 6 giugno ospiterà il primo form food firmato da chi organizza il celebre meeting di Cernobbio l'agroalimentare sta reggendo abbastanza bene tutti i prodotti sicuramente il connubio turismo agroalimentare ad esempio il turismo tantissima gente sta frequentando tutta la Valtellina e la Val Chiavenna la montagna ha un futuro sicuramente perché l'ha dimostrato adesso e poi anche tutte le prelibatezze agroalimentari che rappresento è un turismo enogastronomico noi crediamo molto pur rappresentando un IGP quindi un prodotto che vive anche di carne estera e il comprensorio vive di carne estera che comunque questo non impedisca di valorizzare al massimo tutta la carne italiana che può essere messa a disposizione per cui già dal 2017 abbiamo iniziato questa collaborazione con Coldiretti che sta consentendoci di aumentare anno dopo anno il quantitativo di carne italiana che noi utilizziamo per la Bresaola nel settembre 2018 avevamo organizzato un piccolo convegno all'interno della rassegna del grappolo d'oro a Chiuro dove parlavamo già di alimentazione sport e salute grazie al ciclismo anche siamo venuti in contatto poi con l'Ambrosetti e siamo riusciti a coinvolgere questa importante organizzazione per dare un seguito a questo convegno chiaramente su scala diversa e con il coinvolgimento di aziende noi possiamo tracciare la singola scatola e quindi dargli un nome un cognome un dov'è e quindi riuscire a fare sprecare meno l'intera filiera al via da domani sera i lavori di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e la verifica dei presidi antincendio posti al servizio delle gallerie presenti lungo la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga nel tratto di circa 17 chilometri compreso tra lo svincolo di Bellano e il trivio di Fuentes nel dettaglio in Formanas la superstrada verrà chiusa al traffico dalle ore 21 di domani sera alle 5 di giovedì in direzione Sondrio durante le ore di chiusura nel tratto interessato dai lavori il traffico veicolare diretto in Valtellina e Valchiavenna verrà deviato sulla provinciale 72 a Lago nuovi spazi nel centro provinciale istruzione adulti di Sondrio che ha sede nello stesso stabile della scuola media Sassi creati anche ingresso e segreteria autonomi così da evitare la promiscuità con i ragazzi lamentata da alcuni genitori la sede di Sondrio del CPI il centro provinciale istruzione adulti nell'edificio che ospita la scuola media Sassi ha ora un ingresso distinto da quello dei ragazzi e nuovi spazi al suo interno accogliendo le richieste delle due scuole e anche di diversi genitori che mal tolleravano la promiscuità di spazi il comune grazie al progetto dell'ufficio tecnico è intervenuto creando un ingresso autonomo e anche ricavando un aula in più un laboratorio di informatica e la segreteria questo per noi è estremamente importante è un bel risultato dell'amministrazione che ha sempre comunque a cuore i suoi edifici e che ritiene che gli spazi scolastici siano anche spazi didattici spazi pedagogici cioè è lo spazio stesso che dà maggiore enfasi a quello che sono poi le attività che si vivono all'interno dell'istituto quindi è importante avere questa attenzione una ridefinizione di spazi che va a rispondere era una domanda che noi avevamo colto all'inizio del nostro mandato perché servivano spazi più ampi spazi separati ingressi autonomi e quindi alla fine abbiamo con questi lavori raggiunto il risultato che ci veniva chiesto dalle due scuole quindi scuola media sassi e cpa che hanno chiaramente condiviso questo intervento che è stato realizzato con fondi del comune e con una compartecipazione anche dello stesso cpa soddisfatto il dirigente scolastico del cpa Michele Mugeo che riconosce la costante attenzione del comune alle esigenze del centro presidio educativo e di socialità il cpa è una scuola statale è una scuola ordinamentale si occupa di istruzione degli adulti soprattutto ci muoviamo su due settori su due linee l'alfabetizzazione della popolazione straniera che è una fetta importante della popolazione lombarda e anche ovviamente della città di Sondrio e poi sull'asse dell'educazione come dire permanente dell'apprendimento per tutta la vita con questa separazione avendo anche una segreteria proprio del cpa è ingresso separato diciamo che anche se sotto lo stesso detto sotto lo stesso edificio però è molto più tranquilla la situazione ed è abbiamo tranquillizzati sono tranquillizzati anche i genitori e tutto di questa non più promiscuità importante è in carico per Riccardo Redaelli vicepresidente dell'Automobile Club di Sondrio chiamato a far parte della commissione mobilità sostenibile AC Sport l'organismo riunisce competenze trasversali per contribuire allo sviluppo della green mobility nelle competizioni nazionali tematica a cui AC Sondrio attenta come ha dimostrato l'organizzazione di Valtellina Eco Green l'autunno scorso è una nomina molto prestigiosa della quale sono contento e orgoglioso a fermare Daelli perché sono commissario sportivo da tanti anni e ritengo che lo sviluppo di nuovi progetti sulla mobilità sostenibile sia sempre più preeminente anche nel mondo dello sport per AC Sondrio un importante riconoscimento che fa seguito alla nomina nel consiglio generale di AC Italia del presidente Andrea Mariani va in commissione a Roma dichiara una persona competente che conosce molto bene il mondo dello sport così AC Sondrio ha rappresentanza negli organi di AC Italia negli organi sportivi e questo è fondamentale per il nostro territorio in vista delle Olimpiadi e rappresenta una continuità dell'importante lavoro svolto negli anni da Giovanni Trinca Colo nel che tutti ringraziamo le nostre vigne devono molto alla cura con cui i valtellinesi le hanno coltivate sottraendo tempo al riposo e alla famiglia non certo per profitto ma per amore della nostra terra è il caso di Severo Fancoli di Castionetto di Chiuro spentosi oggi a 87 anni nel 2014 in una puntata di Memorie e Tradizioni aveva raccontato la sua storia uguale a quella di tanti uomini della sua generazione ricordarlo e rendere omaggio a tutti loro raccontava il suo amore per la vigna e la terra l'attaccamento alla sua contrada di cui portava il cognome oggi si è spento all'età di 87 anni Severo Fancoli di Castionetto di Chiuro il suo racconto fatto di parole semplici ma ricco di umanità era stato protagonista anni fa di una puntata di Memorie e Tradizioni la sua è stata una vita nutrita dei valori più genuini la famiglia e il lavoro tanti anni in Svizzera sui cantieri è tornato a casa un altro lavoro a coltivare la vigna prima si andava al lavoro poi il tempo che si avanzava si faceva la vigna e dopo in base alla stagione si faceva i lavori che c'era da fare si deve lavorare d'inverno d'estate primavera poi allora facevano tutto a mano poi mettevano anche il grano in mezzo ai filari la segale le patate era sempre un lavoro che dovevi fare in più adesso non ne fanno più di quello Severo Fancoli era l'esponente di una generazione giunta al crepuscolo che pian piano lascia il suo posto occupato per tanti anni ma soprattutto lascia la testimonianza di una vita autentica vissuta con impegno ed edizione si iniziava a lavorare alla mattina non presto perché doveva asciugare un po' l'uva poi fino fino alla sera si raccoglieva se la portavano nei tini la portavano via era un lavoro un po' un po' impegnativo perché bisognava sceglierla anche un po' stavano tutti assieme raccontavano anche storie e via era era bello allora c'era più tanta gente era più tranquilla adesso hanno solo fretta fretta di finire siamo in chiusura prima dei saluti come di consueto vi ricordo che potete seguire Teleunica anche sui social in particolare sul nostro sito teleunica.com grazie di cuore per essere stati con noi a tutti voi buon proseguimento di serata